Ebbene carissimi amici siamo qui insieme nel nostro appuntamento consueto di analisi estrazione per quanto riguarda proprio il quale estrazionale di giovedì 20 ottobre. Bene, non vediamo il 90 su nessuna ruota ma state tranquilli perché deve arrivare, deve arrivare in grande frequenza, deve arrivare su diverse ruote. Bene, abbiamo il mio 90 segreto che lo porteremo avanti come ogni mese fino alla prima estrazione di novembre, quindi attenzione alle ruote di Bari-Napoli e Venezia. Bari-Napoli sono ruote che continuano a piacermi molto, tra l'altro la ruota di Napoli porta il 18 di figura 9 in prima posizione, ma anche Palermo porta l'81 figura 9 in prima posizione e anche Cagliari. Questa è una bellissima formazione di figura 9, 18, 81, 81 e Palermo porta il 9 in terza, quindi Cagliari-Palermo un'altra bellissima coppia per questo 90. Tra l'altro Cagliari porta la doppia figura 9, 27, 81, rime e quinta posizione, quindi guardate quanti segnali che continuano a susseguirsi. Cosa possiamo ancora dire? L'89 a Bari lo annuncia alla grandissima, questo vertibile 28, 82 unito lo annuncia alla grandissima, la cadenza 3, 23, 73, anche questa molto bella, quindi ancora dei grandi segnali. Il 90 che deve arrivare con grande forza perché veramente deve arrivare con una bella frequenza, mi auguro già nell'estrazione di sabato che ci possa dare delle belle soddisfazioni. Intanto continuiamo sulla ruota di Bari sia il 58 che il 56, quarta e quinta posizione, l'ambata perpetua che già abbiamo vinto a Firenze con il 21, la continuiamo anche prima e quinta posizione sulla ruota di Firenze. Abbiamo una bellissima condizione del mio metodo cadenza 0 che andrò a proporre in modalità vincita venuta a 10 e 20, guardate il doppio zerato, unito, isotopo, Genova, Milano, quindi anche qui c'è un 90 molto bello. Andiamo ancora a vedere anche Venezia, guardate il portale 18, figura 9, quindi guardate quanta figura 9 poi è sortita, Venezia nazionale, doppio figura 9 isotopa, 18 e 9. La cadenza 1, questo triangolo di cadenza 1, anche molto bello. Quindi ci sono ancora diversi segnali interessanti. Vediamo se c'è qualcos'altro da poter dire. Estrazioni chiaramente che quando magari non si vince o può capitare anche un mese negativo, perché no? Il lotto è questo, il lotto è così, lo dico a molti. Perché c'è molta gente che pensa che si avvicina al gioco dell'otto, gioca 4-5 volte, 6 volte e si porta a casa sempre la vincita garantita. Non è così, perché il gioco dell'otto è un gioco di grande pazienza, di grande costanza. È un gioco che a volte richiede anche più tempo nel seguire le previsioni. Però è un gioco che seguendo le previsioni giuste, i metodi giusti, come quelli che ha il sottoscritto, si arriva poi alla vincita. Perché magari se in un mese otteniamo meno risultati, in un mese successivo poi otteniamo dei risultati eclatanti. Ed è già successo, come il mese di settembre, che abbiamo ottenuto sia l'ambo secco con il 90 segreto, sia l'ambo secco con l'ambo sotto controllo e sia l'ambo con la Bari nazionale. Tutte e tre hanno vinto. Quindi mi auguro che anche questo mese di ottobre possa arrivare la vincita. Non dovesse arrivare, certamente nel mese di novembre dobbiamo picchiare, perché chiaramente avviene in questa maniera. Quindi il gioco del lotto è così, bisogna avere pazienza, a volte bisogna seguire le previsioni, a volte va bene, a volte va meno bene, ma del resto è così. Però l'importante è avere le previsioni giuste, che sappiamo che sono forti e che ci porteranno dei risultati. Notiamo anche la presenza di questo 85 Roma nazionale che annuncia anche questo, il 90. Quindi ci sono diversi segnali molto interessanti, quindi andiamo avanti con l'estrazione di sabato 22 e speriamo che ci possa portare dei buoni risultati. Per adesso saluto a tutti, Mr. Sbancolotto.